Ueeh! Non fare il pesce lesso! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video senza la voce. Io sono XIUDER e anche oggi un sacco di novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite. Purtroppo tutti ci stiamo aspettando a patch 11.30 che per questa settimana ho paura dovremmo aspettare. Oramai giovedì è passato, venerdì è passato e quindi se non è stata trovata nessuna patch, nessun aggiornamento, ovviamente dovremmo aspettare questo martedì per poter avere finalmente un po' di novità e speriamo anche qualcosa relativo all'evento di questa season 1 di Fortnite del capitolo 2. Prima di buttarmi però a capofitto con gli argomenti del nostro video volevo farvi vedere una figata. Praticamente io non lo sapevo, molti mi hanno proposto dei pacchetti di V-Bucks a prezzi legit, completamente legit, a prezzi un pochettino inferiori ed effettivamente devo dire che è andato a buon fine. I ragazzi sono scritti là in alto, li trovate su Instagram, Bundle Shop Italia. Questa è una schermata relativa al mio profilo e questa mattina fra poco vedrete appunto 15.000 V-Bucks, una roba del genere, tantissimi ragazzi, quindi fateci un salto, magari se vi interessa sicuramente troveranno la soluzione per voi. Voglio anche parlarvi appunto degli argomenti di oggi che saranno il Black Friday che tanto Black non è, perché ieri venerdì non è arrivata nessuna nuova promozione, anche se ci sono dei file inseriti nel gioco che ci fanno ben sperare all'arrivo magari del Cyber Monday. Vi faccio vedere qualche cosa. Nuove LTM invece scoperte da pochissimo che si alterneranno in questi giorni e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati con il dietro le quinte di Fortnite. Prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live su Twitch dalle 8 alle 18. Grazie mille ragazzi per la vostra compagnia e grazie di cuore a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone. Mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Ma prima io comunque ve la faccio, la domandina ci sta dentro, tantissimo una domanda molto personale che sono curioso di sapere la vostra risposta. Ma te che standardo stai usando in questo momento? Oramai ce ne sono veramente tantissimi quelli coi disegni, quelli che ci stanno dando ad esempio i tornei del venerdì di Fortnite. Io personalmente è un bel po' che utilizzo la F di Fortnite sbloccata nella prima season del primo capitolo di Fortnite livello 15, non me lo ricordo, molto molto carina, un simbolo proprio classico per Fortnite. Ditemi ragazzi qual è il vostro qua sotto nei commenti. Ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere il primo argomento di oggi o meglio un aggiornamento su quanto sta accadendo per le sfide della regina d'autunno. Ancora qualcuno mi chiede cosa faccio, come faccio, perché, voglio la copertura. Ti prego damme l'Axuder, non sono io che ve la devo dare ragazzi, ma siete voi che dovete giocare con i vostri amici delle partite normalissime. Più li rianimate, più prendete punti, più li curate con la bazooka sparabende, più prendete punti, più giocate con gli amici, più prendete punti. Siamo aggiornati a venerdì sera circa verso le 23, siamo arrivati a un miliardo e 98 milioni, 315 mila, 839 punti, il che ci fa ben sperare che con questo weekend potremo veramente raggiungere l'obiettivo posto da Epic Games, 2 miliardi e mezzo di punti e quindi ottenere tutti noi, e dico tutti, la copertura animata ad autunno. Ovviamente ragazzi dateci dentro, mi raccomando che secondo me ce la facciamo. E andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi, una serie di immagini corredate da un post fatto da un leakers abbastanza famoso che giovedì twittava che nei file di gioco già li avevamo visti con la patch non la 11.20 ma quella ancora prima furono stati inseriti nei file di gioco quattro bundle che pensavo fossero del black friday, in realtà questo video è registrato prima dello shop di venerdì notte quindi in realtà di sabato mattina potrebbero essere adesso presenti nello shop, i bundle sono visti un pochettino nel dettaglio quello del bombarolo lucente con tanto di backpack a forma di scudo, il bundle della valchiria di ghiaccio ora non ricordo il nome correttamente con tanto di deltaplano, il lama in versione dark molto simile della versione a quelle che abbiamo visto del durburger e del tomato non so se ve li ricordate quelli un po' a neon molto in stile dark e del vertex classico. Questi bundle essendo appunto venduti in maniera completa quindi con tutto il corredo potrebbero davvero far parte a questo punto del cyber monday quindi lunedì anche perché nei file di gioco erano presenti delle delle voci delle chiavi di registro che dicevano black friday e cyber monday a me è apparsa la notifica che ci sono se gli sconti del black friday ma fanno parte del negozio di fortnite del negozio di ap games quindi dove ci sono i videogiochi speriamo che in questo cyber monday invece arrivino questi pacchetti e chi li volesse potrà sicuramente acquistare il set completo spendendo molti meno v bucks e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi si tratta ragazzi della nuova serie di ltm che stanno per arrivare appunto sul nostro fortnite la prima è la modalità a coppie chiamata assorbi arrivata ieri pomeriggio se non ricordo male in poche parole ha il siphon cioè cosa vuol dire si gioca in coppie quando killiamo un avversario automaticamente otteniamo un tot di salute e se non abbiamo se siamo già full di salute e ci dà ovviamente lo shield la cosa interessante è appunto tutte le altre ltm che sono state scoperte che si chiamano ground ltm bounty ltm slide che secondo me è quella scivola ve la ricordate nella season 6 forse arrivo la prima volta siphon ltm che è quella assorbica è fuori adesso e one shot ltm anche quella dove un colpo una kill in poche parole forse le abbiamo già viste tutte non vedo l'ora di vedere anche le altre ovviamente per variare un pochettino anche il game e siamo arrivati praticamente alla fine di questo video volevo solo farvi vedere due concept mega interessanti che hanno riscosso riscosso un successo notevole nel su reddit relativo a forte di il primo dove la community ha veramente espresso un favore grandissimo è proprio quello che vedete alla destra del vostro schermo ed è anche molto molto figo sembrerebbe una candela che mano a mano vada avanti durante la partita si sciolga letteralmente mentre il secondo non è altro che una versione un pochettino più dark cream chiamatelo un po come volete delle lama un lama trasandato con un coltello che gli passa in mezzo non sarebbe la prima volta che happy games prenda delle dei concept fatti dai propri giocatori e li trasformi realmente in skin insomma staremo a vedere beh ragazzi anche per oggi tutte le news sono terminate io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi ci vediamo in live su twitch alle 8 ciao